Noi stiamo parlando di uno dei più grandi attori che abbiamo qua in Italia. Ma che dico in Italia? Nel mondo, ma che dico nel mondo, nell'universo? E qui con noi questa sera, fatemelo dire, Massimo Berthmuller! Massimo Berthmuller! Massimo, io grazie per essere qui. Ciao ragazzi. Allora io vi lascio perché... Lo sai quando mi telefona? Io blocco il telefono, lo metto in viva voce e dico guarda come fa, dico a mia moglie, guarda, e lui dice Michelino mio bello! Scusa un attimo, come inizia la telefonata? No, io faccio anche un suono, non si deve capire Michelino. Faccio anche il bello e comincio. Bene, allora, Michelino e Massimo Belli, tutto a voi, a voi questa conversazione tra grandi amici. Ah, no, ma... Eh, lo so, eh, lo so. Che soddisfazione! Massimo, un mio bello! No, a me piacerebbe che ti conoscessero anche gli altri, perché io ti conosco, ti conosco bene. Abbiamo fatto i viaggi insieme e quando uno viaggia si conosce molto, però è bello sapere qualcosa di più di te, della tua vita, perché loro sanno soltanto che sei un grande artista, non sanno che sei un grande uomo. E allora facciamolo, attraverso le foto noi oggi vogliamo raccontare un po' la tua vita. Allora, facciamo partire subito la prima foto, con mamma e papà. Allora, tu com'eri da bambino? Ma adesso tu ti... lo so che tu adesso mi prendi in giro, lo so che tu sei in agguato, però io ero molto sensibile. Ma dai! Ma davvero? Ma non l'avrei mai pensato! No, dai, sì, no... Eri sensibile, si dà bambino. Eh sì, perché mi feriva qualunque cosa. Ecco, poi piano piano sono cresciuto, ma sono rimasto come tu sai, che se non mi rispondi subito me la prendo, quella roba lì, no? E che devo fare io? Guarda, è peggio di mia moglie, mi chiama, cosa è... Ma l'altro giorno però tu l'hai risposto male. Ho sentito una voce un po' inclinata, così. Poi dopo sei cresciuto. Poi dopo sei cresciuto. È iniziato questo rapporto con gli animali. Sì, abbiamo una foto di quando eri piccolo con un cane, che è il tuo primo cane che hai avuto. Questo è stato il primo cane, sì. Questa era Lady, che era un cocker spaniel, che era una bellezza assoluta. E poi da lì c'è stato poi Zeus, un canelupo alto così, ma poi c'è stato un lungo periodo di stop. Frequentavi solo esseri umani. E poi dopo hai detto, guarda, ce la faccio proprio. Ma per il dolore di quando li perdi, capito? Perché è indicibile quel dolore lì. E adesso ce n'ho due, Rocco e Pupetta. Quanto sono belli sti cani. Allora, io mi sono innamorato di Massimo Hartmuller quando l'ho visto recitare su un palcoscenico. Perché al cinema mi emozionava, mi piaceva. Io l'ho visto poi recitare sul palco e ho detto, io da grande voglio essere Massimo Hartmuller. Perché è veramente uno dei più bravi attori che abbiamo. Ma lui ha cominciato più di 40 anni fa. Tu hai iniziato proprio facendo teatro, prima di iniziare il laboratorio che poi ha degredato, che tu dovevi far forza l'attore, il laboratorio con Gigi Corrietti. Guarda, questo poi è un terreno minato perché dovete sapere che lui mi prende in giro sempre, che mi tratta come fosse una badante mia praticamente. Come se andassi in giro col girello io, capito? Ci avessi dei dubbi, delle cose. Ma in realtà c'è pochi anni fra me e lui. Non è che, capito, stiamo parlando di Peter Pan. Sono sempre con gli otto anni che artisticamente sono importanti. È ne chiarirlo. Però voglio dire, io avevo 16 anni, tu c'erai 23, 24. Già c'avevi quella capacità che attraeve tutti. Questo è veramente una... Poi questa bella voce, questa romanità d'altriteri. Ma io devo dire la verità, amiche, le diciamocelo fra noi. Io poi nel tempo ho scoperto da avere una capoccia, un po' da impiegato del catasto, fai conto? Cioè, no, con tutto rispetto, perché anzi amo... Cioè, quello che c'ha, capito, la testa da impiegato vuol dire che tutto quello che viaggio tu ne sai qualcosa. Tutto quello che è mistero, bohemian, rischio e compagnia bella, a me non me ne strafrega niente. No, nel senso... Perché diciamo che tu, dalla parte attoriale, quella della sofferenza... Il nomadismo, la sofferenza. Non ti piace. No, a me me levi dal baretto sotto casa, già sono un uomo perso, io, capito? Ho sbagliato mestiere, credo. Però non hai sbagliato mestiere, perché tu hai lavorato con i più grandi. Tu hai cominciato, abbiamo detto, nel laboratorio di Gigi Proietti, il primo anno del laboratorio di Gigi Proietti, quello storico dal quale siete usciti tutti i più grandi attori italiani. Non lo so. E poi dopo hai cominciato a lavorare con Antonello Falco. Vediamo, questo è il primo anno. Qui possiamo vedere un giovane Wirtmuller qui a destra, e bella faccia fregnone già che avevo. Poi c'è, accanto a me c'è Rodolfo Lacanà, con cui ho recitato, a casa tua. Al Teatro Sette aveva fatto uno splendido spettacolo. Al Teatro Sette a casa tua, quell'altro in mezzo è Gianfranco Iannuzzo, giovanissimo. Sì, poi c'è Pino Quartullo. Quello accanto a Gianfranco è Pino Quartullo. Sandra Collo. È Sandra Collo dell'Eccolo. Insomma, tanti nomi. Via. È il tuo maestro Gigi Proietti? È un punto di riferimento importante. Guarda, appunto perché questa capoccia da impiegato statale, se io non avessi avuto quei spintoni iniziali a doverlo fare, questo mestiere, perché è incoraggiato a farlo, che mi ha dato la vita, e uno di questi spintoni è stato Gigi, cioè Gigi per esempio, una cosa che ho imparato da lui, è la gioia di stare in scena, che si sta affievolendo sempre di più, non equivochiamo. La stai perdendo. Tu sai che io bofonchio dalla mattina alla sera e sono aperto le facioli su questo. In realtà, quando si apre il siparietto, io sto bene, passa la febbre, si sta meglio, il cuore sorride. Questa gioia di stare sul palcoscenico l'ho imparata da lui. Lui insegnava anche molto a saper leggere un personaggio, per esempio, quindi gli devo moltissimo, come devo molto tra gli spintoni vari ad Antonello Falqui. Antonello Falqui, con cui tu hai fatto la televisione, la Zavorra l'ho scoperta lui. Quella lì. Eravate Paolo Tiziano Luciano, il vero, del Follagamà. Questa è la scuola, vedi? Allora, io ho capito che potevo fare sto mestiere, perché mi piaceva addirittura fare la voce di Jacopone da Dotti dietro a una porta, dello sgabuzzino nascosto. Quando toccava a me mi dicevano vai, vai, ecco, da dietro sta porta. E io già ero contento, capito? Allora, questo è un bel mestiere, capito? È un bellissimo mestiere. A scopa qua, a cosa, capito? Ma tu hai fatto televisione, radio, cinema, anzi, a proposito, diciamo al signor TV 2000, che Massimo si presterebbe volentieri a fare il conduttore in televisione, perché ha detto che così sta sul Romance, deve muovere, è contentissimo lui. Ti sta pure vicino a casa. Il baretto, il baretto. Il baretto, certo. C'è una foto bellissima che abbiamo con Massimo Troisi. Il film che vediamo nella foto, qual era? Questo è il viaggio di Capitan Fragassa con Massimino, con il quale mi divertivo a fargli, lui si divertiva con gli strumenti vocali che facevo, io che facevo tutti i pezzi, con gli strumenti a bocca, e lui faceva va, va, fam, fam, fam sta cosa. E io, come, com'è? Faccene uno. La trombetta, per esempio. E poi andavo, capito? E lui si divertiava un po'. Almeno due, almeno due. Almeno due. No, questa è la trombetta. No, poi. Però su, capito? Sulle rumbe, le mambi, le cose che faceva lui veniva più divertente. Era più divertente. Invece abbiamo una foto con uno che non è... uno molto meno bello di te. Però è questa foto che, insomma, garantisce che tu hai lavorato con personcine a moto. E vediamo, e vediamo. L'abbiamo questa foto? Ecco. Hai capito, hai capito, hai capito, sì. Chi è Sto Giovannotto? E tra le tante foto con attori... No, per dire con chi ha lavorato, perché poi dopo, se facciamo un elenco, con chi ha lavorato, io mal se me ne vado, perché proprio la sua storia, diciamo, da artista è a tutto tondo. E poi è andata a prodare in un lido, in una spiaggia deserta, perché abbiamo un'altra foto che attesta che ci sanno altri compagni di viaggio nella tua carriera professionale. E questo è Giorgio. Giorgio è simpaticissimo. Eccola. Giochiamo a fare le facce. Tanto ci piace fare le facce. È bella questa, però. Vedi che bella foto che ci hanno fatto. Pensi, l'abbiamo fatta nei camerini del Teatro Sette, quando facevamo come questo Roma, per giocare con Ilario Nesto Vito. Io c'avevo la faccia perché mi hai portato un tournée, appunto. Sì, se lui come si muove e dice, ma dove dobbiamo andare? Come mi muovo dal barretto famoso e civile. Guarda, è Roma... No, è lontano, Michele. Quello ho convinto perché sta vicino a casa. Infatti io credo che tu hai detto prima l'attore, le cose, il mondo, le cose. Io fino a Riccia arrivo come tipo di riconoscibilità, hai capito? A Riccia ancora mi conosco. Che cos'è una cosa che ti fa arrabbiare? Ah, vedi che bella domanda. Ah, vedi che bella domanda. L'ipocrisia. Cioè, non c'è bisogno di bugie, capito? Cioè, mi piace al contrario, mi piace la persona diretta. E invece, ti piace fare ridere? Questa è una certezza. Noi facevamo questo spettacolo, come Cristo comanda, che affronta un argomento anche importante. Però, poi dopo, nella prima parte, facevamo molto ridere. All'inizio eri un po' restio, poi dopo non ce l'hai fatto proprio, non è retto. Quando sentivi la risata... Guarda, senti chi parla. Ma vabbè, io però lo dichiaro. Perché noi due che dovevamo raccontare questa storia, lo diciamo, no? Certo, sì, sì. Dei due centurioni che hanno assistito alla crocifissione del povero Gesù, doveva essere una cosa soprattutto spalmata, colorata di dramma. E a un certo punto sembravamo cippe-cioppe, No, spieghiamolo, se no sembra che noi dissacriamo qualcosa. No, noi facciamo uno spettacolo e attraverso la risata portavamo il pubblico ad affrontare un argomento importantissimo. Ma abbiamo esagerato. No, 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 no.